Se parliamo di politiche attive, riconosciamo anche che un ruolo ce l'hanno le regioni. In Germania, 110.000, credo, nel complesso, impiegati per rafforzare i centri dell'impiego. Da noi, se la Sicilia non assume anche le persone che sono destinate a rafforzare i centri dell'impiego, difficilmente miglioreremo le politiche attive. Non ci giriamo intorno. Quando si attacca il reddito di cittadinanza, è come attaccare un qualcosa senza risalire alle cause. Se, per quanto riguarda le politiche attive, dobbiamo migliorarlo, che le regioni, ovviamente, si assumono le loro responsabilità per il rafforzamento dei centri dell'impiego, che i comuni si impegnino per i progetti utili per la comunità, i PUC. Ognuno deve fare la sua parte. Dobbiamo smetterla di prenderci a di aggredire la povertà, aggredire i poveri, che hanno maggiore dignità di chi, evidentemente, è vissuto e cresciuto in contesti sociali e familiari diversi e ha avuto tutto dalla vita.